Musica Buongiorno, benvenuti all'appuntamento del mattino con l'informazione di Telemolisi in regia questa mattina. Gianfrancesco Iacaruso. Il Presidente della Regione Paolo Frattura ha incontrato i sindacati per illustrare le ultime novità sulla difficile vertenza gamma. Dopo 13 mesi di chiusura dell'azienda boianese sembra aprirsi qualche spiraglio con la manifestazione di interesse formalizzata da Aria Food S.p.A. Ma i rappresentanti dei lavoratori vogliono vederci chiaro il servizio di Giovanni Minicozzi. A distanza di 13 mesi dalla chiusura della gamma si apre almeno in apparenza qualche spiraglio sull'azienda vicola boianese. Aria Food S.p.A., una new co del settore, ha infatti ufficializzato la sua manifestazione di interesse per acquistare la gamma. La società fa capo a Diego Volpe Pasini, l'imprenditore friulano che negli anni passati è stato uomo di Berlusconi, ideatore del cosiddetto esercito di Silvio e frequentatore abituale di Arcore e di Palazzo Grazioli. Nell'immediato nulla cambia negli assetti societari dell'azienda. Bisognerà attendere il bando di evidenza pubblica che verrà ufficializzato solo dopo la definizione del piano di sviluppo rurale 2014-2020 in sede comunitaria, prevedibilmente entro il secondo semestre del 2015. Il presidente Frattura, accompagnato dall'ingegner Nicola Baranello e dalla consulente Carmela Lalli, ha incontrato i sindacati per comunicare la novità che, a suo dire, potrebbe rilanciare la filiera vicola molisana. In attesa dell'avviso pubblico, però, l'imprenditore Volpe Pasini ha chiesto di assorbire da subito 35 lavoratori della gamma, attualmente in cassa integrazione straordinaria, da utilizzare in un macello distante circa 70 chilometri dal Molise per lavorare 80.000 polli a settimana. Non si conosce la sede di lavoro, ma, secondo i beni informati, la struttura si troverebbe ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Altri 30 lavoratori della gamma verrebbero impegnati dalla nuova azienda nell'incubatore e i restanti 200 resteranno in cassa integrazione in attesa dell'acquisto e del rilancio della gamma da parte di Aria Food S.p. I sindacati, dopo aver conosciuto il nuovo piano, hanno espresso alcune perplessità e hanno chiesto tempo. Questo imprenditore che è uscito fuori dall'incontro ha molta fretta di iniziare subito la... Però, chiaramente, il sindacato ha preso i suoi tempi per poter valutare meglio tutta la situazione, perché gli è stato detto un po' di cose. Da queste cose bisogna vedere se quello che si può fare e quello che non si può fare è tutela di tutti quanti i lavoratori, nel migliore dei modi, senza che aver fretta e sbagliare. L'imprenditore Volpe Pasini, invece, vuole fare presto e ha già fissato un primo incontro con i rappresentanti dei lavoratori per il prossimo 5 dicembre. Peraltro, secondo indiscrezioni, il patron della Food S.p.A., già impegnato nel settore della produzione di energia elettrica, sarebbe interessato anche alla commercializzazione dello zucchero prodotto nell'impianto di termoli e alla costruzione di due centrali a gas nel Basso Molise e nell'area di Venafro. Dunque, l'eventuale e non scontata acquisizione della gamma potrebbe agevolare i veri interessi imprenditoriali di mister Diego Volpe Pasini e dei suoi soci. La Giunta regionale ha deliberato le modalità e le procedure per erogare i contributi ai centri di assistenza tecnica che svolgono attività di supporto e consulenza alle imprese del commercio e del turismo. Lo ha comunicato l'assessore alle attività produttive Massimiliano Scarabeo. Per il 2014, ha spiegato, saranno riconosciuti ai centri iscritti nell'apposito albo regionale 2.500 euro per le spese di impianto di ogni struttura operativa attivata, fino ad un massimo di due. E adesso la cronaca. Specializzati nella contraffazione di banconote da 50 euro, alcuni sconosciuti hanno spacciato i loro falsi anche a Isernia. Ai danni di una sala giochi e di un distributore di benzina. Singolare la modalità con cui si realizzano le banconote contraffatte. Ci dice tutto in questo servizio Enzo Di Gaetano. Colpo grosso dei soliti ignoti a Isernia ai danni della sala giochi dell'hotel Europa e di un distributore di benzina su Via 24 Maggio. La tecnica ricorda un po' i film di Totò e Peppino, chiaramente riviste corrette in chiave moderna. Questa volta la banda ha ingannato non solo le persone truffate, ma anche i marchigegni elettronici che, fino a prova contraria, dovrebbero essere inviolabili. E parliamo dei lettori ottici che accettano banconote per cambiarle in monete o per erogare carburante. È successo così che, infilando ben 36 bigliettoni taroccati da 50 euro, gli ignoti hanno portato via 1800 euro in monete esonanti dalla macchinetta che cambia le banconote presso la sala giochi dell'Europa. Stesso discorso, più limitato per fortuna, presso il distributore di Via 24 Maggio, dove i falsari hanno pensato bene di fare il pieno prima di scappare via da Isernia. Il bello è che non si trattava di banconote falsificate in maniera perfetta, tanto da trarre in inganno i lettori ottici, bensì di copie in carta comune, con scritto su facsimile. Carta comune, quindi, ma con un piccolo particolare. Il rettangolino metallico, che è in basso a destra della banconota normale e che serve a renderla ancora più sicura, era stato falsificato alla perfezione, tanto da ingannare i lettori ottici di cambiavalute e distributori di benzina. Insomma, una truffa ben escogitata che, come conseguenza, ha avuto il blocco dell'accettazione dei biglietti da 50 euro sia ai distributori di carburante di Isernia, sia al cambiavalute dell'hotel Europa. Per la prima volta un vino molisano tra i primi 100 vini del mondo. Il riconoscimento va al ramitello della cantina Di Maio Norante. La classifica è stilata dalla rivista internazionale di settore Wine Spectator. Il ramitello si è classificato al 74esimo posto della graduatoria, nella quale sono rientrati 19 vini italiani, per lo più toscani e piemontesi. È il maggior riconoscimento internazionale cui un vino possa ambire, ha commentato l'assessore regionale all'agricoltura Vittorino Facciolla. Questa è la dimostrazione del grande lavoro di squadra fatto in azienda e delle ottime qualità dei nostri vigneti e, di conseguenza, del nostro territorio. Bene, con la nostra informazione ci fermiamo qui adesso alla rassegna stampa dei quotidiani locali e nazionali. Iniziamo, come sempre, con il giornale del Molise.it. In apertura, San Giuliano di Puglia, il centro hub per i migranti si farà. A breve, l'approvazione in Consiglio Comunale. L'articolo è a firma di Michele Mignogna. In regione, per parlare di edilizia popolare, Nagni soddisfatto per l'istituzione dell'Eres. Costi contenuti, ha detto, e maggiori vantaggi. L'idea del CGL è aprire a Roma la vertenza molise. Si parla anche della Coldiretti. Tommaso Gianniacovo al vertice dell'organizzazione regionale. È il presidente più giovane d'Italia. La cronaca, NetClub spacciato per circolo privato. Sigilli ad un locale di Campochiaro. A Campobasso, ancora con la cronaca, ennesimo atto vandalico in via di Attellis. Vetrina presa a Sassate. Morte sospetta di un detenuto del carcere di Sernia. Effettuate le cosiddette prove irripetibili nelle celle sequestrate. Riscaldamento nelle scuole. Personale e sindacati chiedono soluzioni immediate. Intanto il 12 dicembre sarà sciopero. A Termoli, per Termoli per i bambini. Genitori in piazza per una città a misura dei più piccoli. Ferre Littierre chiede il dissequestro. Vediamo anche le altre notizie. Crisi dell'edilizia e scontro tra Lance e Regione. Uliano Denuncia ci ha voltato le spalle. A Ricci adesso si fingono venditori porta a porta e rubano un quadro da un appartamento. Arrestati due giovani di Lucera. Ci spostiamo a Larino. Passava la droga, avete visto, anche nelle ultime ore. Al figlio, durante le visite in carcere, rimanette un 56enne napoletano. Poi ci sono consente rubriche editoriali, idee e opinioni, notizie dalla Regione e dall'estero. Andiamo a dare uno sguardo a primo piano. Molise, iniziamo. L'apertura, pubblica sicurezza. In arrivo uno tsunami sul Molise. Nel progetto di razionalizzazione del Viminale, a rischio cancellazione, 189 uffici in tutta Italia. Il ministro Alfano vuole chiudere tre presidi sul territorio. La polstrada a Larino, la ferroviaria a Campobasso e la polizia postale ad Isernia. Andiamo alle notizie sotto la testata. Isernia ha detenuto morto ieri i rilievi irripetibili nelle due celle del carcere di Ponte San Leonardo. A Campobasso avete sentito sassi in via di Attelli, scolpita per la seconda volta alla vetrina di un parrucchiere. Ad Isernia adesso denunciate e multate per 3 milioni di euro 30 persone erano in testa tarie di 200 mezzi utilizzati per rapine. La cronaca ancora sigilli al night di Campochiaro nel circolo privato, belle donne e champagne. Ancora cronaca, da Termoli invita un automobilista a rispettare il passo carrabile. Anziano finisce in ospedale. Si parla anche della gamma, area food, pronti a riassumere 230 unità in tre anni. e a proposito di lavoro, area di crisi, la CGL rilancia, serve una mobilitazione. Le altre notizie. Aule gelide, abbiamo visto dunque il personale della scuola sul piede di guerra. Si parla anche di giornalismo, un incontro al liceo scientifico, la notizia nel segno dell'inchiesta morale. Domenico Iannacone si racconta ai ragazzi del Romita. Da Gisi in Abruzzo, ex Golden Lady, il primo dicembre l'incontro al Ministero. Il calcio, Treppini, Isernia e Dauna Riccia saranno le semifinali di Coppa Italia. E poi si parla anche di Fair Play, il presidente della Lega Nazionale di Lettanti, Belloli a Campobasso, premia Quercus e Casalnuovo. Chiudiamo primo piano, andiamo a dare uno sguardo al quotidiano del Molise. Area di crisi, partono le audizioni. I sindacati sperano, non sarà risolutiva, dicono, ma è uno strumento indispensabile. Parti sociali e regioni convocate in decima commissione a Montecitorio. In alto arriva De Chirico, Molise Cultura, siamo pronti, la mostra aprirà il 19 dicembre. La legalità, questione legalità spina, aumentano abusivismo ed estorsioni. Ancora la notizia, siamo sulla destra del fattore, lancia l'allarme, segretario della CGL, regione a rischio, desertificazione, si apra presto, l'avvertenza è stato detto. A centropagina, detenuto morto, la scientifica di Napoli in carcere. Nel box sulla spalla, i serni a 6.000 auto intestate a 30 persone, una truffa da 3 milioni di euro. Veniamo a Campobasso, dirigenza comune, si pensa ad un super manager, intanto i consiglieri incaricati da Battista salgono ad otto. Per la legge è un circolo, in realtà è un locale a luci rosse. Siamo a Campochiaro, blitz della Polizia, sanzionato il titolare del night. Anche qui lo sport, Molise e Telecom, binomio vincente per il fair play. Intanto serie D, stangata sui lupi, arrivano 1.200 euro di multa per i botti esplosi domenica a San Benedetto. Coppa Italia e Sernia, Dauna, Olimpia Riccia e Treppini conquistano la semifinale. Andiamo a vedere anche l'ultima notizia, è sempre sport, in particolare c'è un appuntamento, successo per la convention regionale di Special Olympics. Al centro M2 è stata festeggiata Paola Giorgetta, convocata per i mondiali di Los Angeles. Chiudiamo anche il quotidiano del Molise, andiamo a vedere la gazzetta del Molise, il quotidiano Free Press, che dedica la sua apertura al ricordo di Sara, la signora Sara, ricordiamo, consorte di Mario Pietracupa, ex Presidente del Consiglio regionale del Molise e sorella dell'euro, deputato Aldo Patriciello, scomparsa prematuramente. Dei quotidiani regionali, adesso passiamo ai nazionali, iniziamo con il Corriere della Sera, resa dei conti in Forza Italia, dunque la politica in primo piano. Fitto dice, azzeriamo tutto, non dobbiamo essere subalterni a nessuno, Berlusconi non rompe. Vertice al Colle, al Quirinale, Napolitano chiede a Renzi di fare le riforme con l'opposizione. Dalla prima pagina, dall'apertura del Corriere della Sera, adesso andiamo su Repubblica, rischio Senato per il Jobs Act, battaglia nel Partito Democratico. Renzi rassicura Napolitano, dice riforme condivise entro gennaio, intanto rissa Cuperlo Orfini sull'articolo 18, CGL ricorso all'Europa. Forza Italia, scontro tra Berlusconi e Fitto su Salvini, leader, questo è quanto si legge nel sommario di Repubblica. Adesso la stampa, vediamo anche qui, si parla di riforme, Renzi riforme entro gennaio, Jobs Act intanto verso il Senato, i dissidenti agitano la vigilia nel PD, inutile pressing sul Presidente per rinviare le dimissioni. Un'ora da Napolitano, possibile un percorso condiviso in Parlamento, tanto Forza Italia, a processo a Berlusconi, ma i gregari dei due Mattei, Renzi e Salvini. Intanto vertice con Fitto. Uno sguardo al Fatto Quotidiano, eccolo qui, Jobs Act, la legge di Renzi, la scritta Confindustria, scrive il fatto. Squinzi e Company si congratulano per la svolta e vedono la ripresa nel 2015. Tutto merito delle nuove norme sul lavoro, che peraltro sono opera loro. Ecco il documento dell'Associazione degli imprenditori italiani, che già a maggio le anticipavano punto per punto. Dunque, spiegato all'interno anche il contenuto del titolo di apertura. Il giornale Prodi guida il complotto. La sinistra anti Renzi, Rosi Bindi e Bersani parlano di scissione ed evocano l'ulivo. Dietro c'è la sete di vendetta del professore. Berlusconi rassicura Forza Italia, frena su Salvini, candidato, e lancia il piano per la flat tax. Adesso andiamo a vedere l'apertura di Libero. Un paese alla rovescia, tasse ai terremotati, case agli abusivi. Vediamo un po'. L'agenzia delle entrate chiede alle imprese emiliane, colpite dal sisma, le imposte da cui erano state esentate. A Milano falliscono gli sgomberi, gli occupanti attaccano i poliziotti e i politici li pugnalano alle spalle. Il tempo quotidiano della capitale, 40 furti in casa ogni giorno. L'Italia criminale crescono i reati minori, nella capitale boom di colpi nelle abitazioni. Nelle periferie un poliziotto ogni 2.500 cittadini e i commercianti si difendono da soli. Poi si parla della Roma a luci russe, notte nei night club di Mosca, polemiche sui giallorossi e il riferimento è alla squadra di calcio della Roma. Siamo su avvenire, l'Europa condanna il precariato di Stato. In gioco 250.000 assunzioni di supplenti, sì, della Corte di Giustizia al ricorso di alcuni docenti, troppi abusi su contratti a termine, è stato detto. Giannini, il nostro piano anticipa la richiesta. Questa dunque la risposta del governo. Passiamo al mattino di Napoli, Forza Italia nel caos, scontro su Salvini, politica, poi un'inchiesta, danni a scuola, nessuno paga. In Campania il conto dell'ultimo anno è di 800.000 euro, assalti alla creolina e decine di computer rubati, responsabili, impuniti. Euro falsi, euro falsi. A Napoli la stamperia per il mondo nella banda, c'era anche la mamma di fortuna, addirittura è stata stampata, così riferiscono le cronache, una banconota da 300 euro, banconota chiaramente inesistente. La gazzetta dello sport, Euro Juve, così si fa, i bianconeri a Malmo tornano a vincere fuori casa dopo 21 mesi. tante azioni da gol nella ripresa a segno Llorente e Tevez. Allegri ora può tentare l'assalto al primo posto. Inter andiamo in basso, tre punti per il mancio, Europa League con un successo, nerazzurri sicuri, primi Napoli e Toro sfide da vetta. E si parla anche di Messi, l'uomo dei gol record, a 27 anni il giocatore che ha segnato di più nella storia di Champions League. Bene, come sempre con lo sport concludiamo l'appuntamento del mattino, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi ricordo alle 14 il telegiornale con tutte le ultime notizie. Arrivederci.